Tu alla salute, tu alla scelta. La prossima conferenza è intitolata Tu alla salute, tu alla scelta, perché sarà proprio ciò di cui parleremo. Abbiamo molte scelte che possiamo fare e queste influiranno sul nostro futuro, sulla probabilità delle malattie che potremo avere e tutte queste variabili. Siamo fatti in un modo stupendo, ed è sorprendente vedere come l'essere umano possa abusare così della sua salute e lo stesso restare in vita. Ed il fatto che tutto questo sia ancora così normale è in realtà molto sorprendente. Quali sono i fattori di rischio che influenzano la nostra salute? Bene, ci sono cose che potete cambiare e alcune cose che non potete cambiare. Ad esempio, se l'ambiente diventa molto inquinato, non puoi semplicemente scappare via dal pianeta. Sei in qualche modo confinato in questo luogo. Ma ci sono altre cose che puoi evitare. E mi piace chiamarli i mostri del nostro stile di vita. Lo smog rovina i bambini nel grembo materno. Ma non c'è nulla che possiate fare per questo. A meno che non smettiate di respirare. E poi ci sono altre cose che noi facciamo. Come prendere delle sostanze stimolanti. Avere delle vite stressate. Le persone si svegliano al mattino e si sentono mezza morte. Ed hanno bisogno di uno stimolante. Allora si prendono una tazza di caffè, di tè, o una bibita gassata con caffeina. Oppure una sigaretta. Insomma, prendono qualcosa per andare avanti. E le persone creano una dipendenza da questi stimolanti. Questi stimolanti aumentano la capacità di rimanere in uno stato eccitato. E poi, quando la persona torna a casa e vuole andare a dormire, dopo aver preso tutte queste cose durante la giornata, allora ha bisogno di prendere un sedativo o qualcosa per calmarla. E allora prendi un drink. Alcune persone bevono alcol o superalcolici. Alcuni consumano dei narcotici. Altri dipendono dalle medicine. Ed altri prendono spirine. Altri fumano erba, cannabis, marijuana o quel che è. E poi abbiamo anche persone che cercano di svuotare la mente usando allucinogeni. LSD, ecstasy, eccetera. E se sei squattrinato, usi gli inalanti. Tutte queste sostanze creano problemi. Diamo prima un'occhiata all'alcol parlandone in generale. Se volete avere attive le cellule natural killer, cellule NK, le quali sono un tipo di cellule immunitarie che fagocitano cellule come quelle cancerogene, ad esempio, sarebbe bene non bere alcol. Bere in modo eccessivo influenza la capacità delle cellule NH di distruggere le cellule cancerogene che si manifestano. Quantità molto piccole di alcol possono impedire a queste cellule di cambiare, di affrontare attacchi, di prendere parte alla vostra capacità immunitaria. Quindi persino piccole quantità di alcol riducono la vostra capacità immunitaria. L'apsoriasi non è qualcosa che proviene soltanto dal bere smodatamente. Le donne in particolare possono essere soggette all'apsoriasi del fegato persino quando consumano piccole dosi di alcol. Qui c'è ad esempio un fegato normale e qui c'è un fegato cirrotico. Notate il deposito di grasso. I bambini, per esempio, molti di loro possono nascere con quella che chiamiamo la sindrome alcolica fetale. Tipicamente consiste in una ridotta circonferenza della testa, ponte nasale appiattito, pieghe agli angoli degli occhi, naso corto e piatto, distanza ridotta tra le guance, labbro superiore sottile, ma non tutte queste caratteristiche sono necessariamente presenti nello stesso tempo. Tipicamente questa sarebbe la sindrome alcolica fetale. Sapete, è molto strano. Le donne che bevono eccessivamente mentre sono incinte hanno la possibilità dal 30 al 45% di avere un bambino così. Ma notate che soltanto due bicchieri di drink al giorno sembrano essere il livello al quale avviene il danno. Quindi anche una piccola quantità di alcol è dannosa allo sviluppo del feto. È dannosa alla tua capacità immunitaria. Tutti sanno che le sigarette fanno male. E solitamente il numero di sigarette fumate giornalmente e l'incidenza del cancro sono fortemente correlati. Qui per esempio, se non hai mai fumato nella tua vita, qual è la tua probabilità di raggiungere la veneranda età, diciamo di 85 anni? Se non hai mai fumato nella tua vita, vai sul grafico rosso e la tua probabilità è di circa il 35%. Se hai fumato 25 o più sigarette al giorno, la probabilità di arrivarci è minore del 10%. È una gran differenza. Per raggiungere i 70 anni, la probabilità è veramente molto buona se non hai mai fumato. È dell'80% se non hai mai fumato, mentre la probabilità è soltanto del 40% se hai fumato 25 sigarette. Quindi ogni riduzione nel fumare è già un miglioramento, ma non fumare, smettere totalmente, sarebbe la cosa migliore. Se date un'occhiata ai rate del cancro al polmone a livello mondiale, vedrete che la Scozia, Hong Kong, Islanda, Stati Uniti, Danimarca sono tutti questi paesi in alto. Però sembra che alcune altre delle nazioni industrializzate non stiano andando molto male. Oggi c'è un lieve spostamento verso i paesi non industrializzati. Il cancro al polmone negli Stati Uniti. I maschi hanno cominciato a fumare negli anni 50 in modo copioso, per poi incrementare rapidamente fino agli anni 90. Le donne sono rimaste indietro in questa avventura sociale e hanno cominciato a fumare soltanto nel 1965. Probabilmente perché le donne sono più intelligenti degli uomini, non è così? Deve essere così. Ma sembra che alla fine stiano recuperando. Ed oggi vediamo un'inversione di tendenza. Sembrerebbe allora che dopo un certo periodo di tempo gli uomini diventino più intelligenti. Non so esattamente perché. Ovviamente, qui vedete un tumore piuttosto brutto. non vorresti un polmone che gli assomigli. Questo è un tipico polmone di fumatore comparato a un polmone pieno di smog di un non fumatore. E questi sono esempi gravi. Qui vediamo un esperimento che è stato fatto da un mio collega. Nella nostra università siamo abbastanza interessati alle malattie dello stile di vita e questo signore, il professor Maritz, ha fatto molta ricerca. È riconosciuto a livello mondiale per le sue ricerche sulla nicotina e ha fatto alcuni appassionanti studi sui ratti. Qui ci sono alcuni ratei metabolici. Per esempio, diamo un'occhiata a questo. Il glucosio, la combustione del glucosio. Normalmente, un piccolo ratto avrebbe questa capacità di combustione, micromoli per grammo per ora di glucosio combusto. Ma se gli viene somministrata della nicotina, questa capacità raddoppia. Se gli viene tolta la nicotina, allora la capacità diventa molto, molto bassa. Questo è un punto interessante. Vedete, le donne, ad esempio, sono molto attratte da questo effetto. Quando esse fumano, bruciano in modo naturale più energia e perciò tendono a rimanere più magre. Quando smettono di fumare, la loro capacità di bruciare glucosio cala fino a meno della metà e tendono a ingrassare. Ed è per questo che alle donne non piace smettere di fumare perché ingrassano. Mentre il livello normale sarebbe da qualche parte tra questi due livelli. Quindi se la persona smette di fumare per un periodo prolungato, il suo metabolismo incrementerà di nuovo. Quindi l'unica cosa che potete fare per non ingrassare se smettete di fumare è rimanere attivi ed in forma. Ma c'è qualcosa di veramente interessante che il mio collega ha scoperto. Ha preso una femmina di ratto gravida e le ha dato della nicotina, il che equivale a simulare una madre che fuma durante la gravidanza. Quando i cuccioli sono nati, lui ha continuato a cibarla con della nicotina per simulare qualcuno che fuma un milligrammo di nicotina per chilo di massa corporea dandogliela ancora per 21 giorni dopo aver partorito. Ciò significa che i piccoli stavano ancora ingerendo nicotina con latte materno e questo è ciò che è accaduto ai polmoni di piccoli. Questa linea è di coloro che ricevevano la nicotina questa è in porpora e questa linea nera invece è di coloro che non ricevevano nicotina questi sono i piccoli i piccoli non ricevevano mai direttamente la nicotina la prendevano indirettamente dalla madre e vedete che quando sono nati i polmoni erano praticamente gli stessi ma mentre sviluppavano i polmoni il volume alveolare è diventato maggiore comparato a quelli dei cuccioli allattati dalla madre che non prendeva nicotina il volume alveolare di questi cuccioli normali è diminuito questo è importante quindi i piccoli da una madre che fuma hanno sacche d'aria ampie e i piccoli di una madre che non fuma hanno sacche d'aria piccole nei polmoni non solo questo se analizziamo il numero degli alveoli vediamo la stessa cosa qui vediamo i piccoli di una madre che non ha mai fumato e vedete che il numero di alveoli incrementa in modo marcato con la crescita ed incrementa anche nel gruppo dove la madre fuma ma non di così tanto quindi c'è una grande differenza nel numero degli alveoli al 42esimo giorno di sviluppo quindi cosa significa semplicemente questo che se una madre fuma la sua prole probabilmente avrà poche ma grandi sacche d'aria nei polmoni e se la madre non fuma le sacche d'aria saranno piccole e molte ora cosa è preferibile il sistema di piccoli alveoli risulta in una superficie maggiore per lo scambio di ossigeno in relazione al volume quindi se ci sono molti piccoli alveoli è la situazione ideale questi sono gli alveoli nicotinici di un piccolo bebé che non fumava da solo ovviamente notate gli alveoli larghi e i piccoli buchi negli alveoli in effetti ci sono delle lacerazioni ed il polmone sanguina internamente questo è un bambino che non ha mai fumato ma l'ha ereditato dalla madre e qui ce n'è uno dove la madre non ha fumato e vedete dei piacevoli minuti piccoli alveoli questa è proprio la giusta misura nessun buco in essi assolutamente perfetti al microscopio elettronico quindi uno sviluppo dei polmoni molto bello e poi il mio collega ha fatto qualcosa di interessante ha preso l'intero polmone e lo ha messo in un acido dissolvendo tutti i tessuti fino a fare rimanere solo il tessuto elastico qui vediamo quello che resta del polmone sano di un ratto del gruppo di controllo in altre parole una volta che il tessuto si è risolto questo è ciò che è rimasto questo è il tessuto elastico sembra come una spugna se prendiamo invece il polmone da un cucciolo della stessa età da una madre che ha fumato questo è ciò che resta incredibile quindi sostanzialmente quello è il polmone di qualcuno che ha un enfisema quel polmone è totalmente inutile le sacche d'aria sono larghe e flosce e l'elasticità del polmone è scarsa quindi alcuni che portano al mondo dei figli fanno loro questo credo che mia moglie sia una di loro lei ha i peggiori polmoni sotto il sole quando uno va a fare il test dove bisogna soffiare per misurare la forza dei polmoni e la loro capacità lei soffia e bip solo così poco sua madre era una canita fumatrice mentre era incinta e mia moglie ha ereditato questi polmoni scadenti e se io devo soffiare il test lo gonfio a tutta forza mia madre non ha mai fumato anche se io ho fumato quando ero stupido e giovane questo fa una grande differenza la vostra scelta vedete non influenza soltanto voi può influire sulla vostra prole ed il fumo passivo è ugualmente nocivo c'è ancora qualcosa da dire su alcune piante abbiamo analizzato dei composti secondari delle piante dei fitochimici che sono salutari però ci sono dei fitochimici che sono nocivi per noi in alcune piante specifiche e questi composti secondari dannosi possono causare varie malattie ora perché le piante possiedono queste sostanze ci viene detto che queste sostanze nelle piante esistono per la loro difesa tossica sono una difesa per ridurre la digeribilità alcuni altri hanno un effetto positivo come quelli anticarcinogeni ma quelli nocivi sono chiamati alcaloidi alcuni sono chiamati piretrine che si possono usare come insetticidi altri sono i rutenoidi poi i glicosidi cianogenici come il tannino ad esempio le resine fenoliche gli oli del caffè prodotti quando si arrostisce la caffeina poi le sostanze teofilline che trovate nel tè per esempio la teobromina una sostanza che trovate nel cacao la nicotina una sostanza che trovate nelle piante di tabacco ad esempio queste sono sostanze negative che dobbiamo evitare ora piante differenti hanno composti differenti tutte le piante variano nelle sostanze al loro interno e poi l'intero regno animale si estende dipende dal regno vegetale quindi certi animali mangeranno certi cibi e non altri per cui ad esempio la sfinge del tabacco è un verme che si nutre delle piante di tabacco e ha un enzima che neutralizza la nicotina quindi quel verme può mangiare quella pianta dalla mattina alla sera e la nicotina viene neutralizzata ed eliminata come se non ci fosse mai stata ma questo verme è ancora attratto dalla nicotina è il suo bersaglio e va e lo mangia il koala è attratto dall'olio di eucalipto e l'olio di eucalipto viene mangiato ed attrae l'animale e questa è la sua dieta si attiene a quella dieta un altro animale arriva assaggia l'olio di eucalipto e ne è disgustato e non lo mangia e quindi il koala ha assicurato che quella è la sua dieta quindi il regno animale si estende e dipende dall'intero regno vegetale per il mondo ora è molto interessante che un ungulato per esempio l'eland gigante un tipo di antilope che è il più grande ungulato al mondo va in giro e mangia le foglie di acacia e la stessa cosa accade come accadrebbe nel tè o caffè e ne parlerò mentre andiamo avanti questo è il chicco di caffè contiene oli del caffè e caffeina caffeina e teobromina la teobromina la potete trovare nei prodotti di cacao e sono molto molto simili la concentrazione di acidi grassi incrementa quando li consumiamo la pressione sanguigna aumenta l'acidità di stomaco i livelli di adrenalina e noradrenalina cominciano ad aumentare e provocano un effetto di lotta o fuggi cioè una reazione da stress il tempo di digestione ed assorbimento viene incrementato la caffeina è tossica interferisce con l'azione dei muscoli è un soppressore di enzimi è un carcinogeno 500 grammi di tè contengono abbastanza caffeina da uccidere mille topi è solo un pacchetto di tè e causa mutazioni genetiche ad esempio la teratogenicità l'avere più del normale numero di dita labbra sottili e palato lepurino se ci bate i ratti con la caffeina allora svilupperanno teratogenicità cioè un numero di dita maggiore del normale o svilupperanno labbra sottili palato lepurino e quello che anche sviluppano è l'esoencefalia c'è un'alta incidenza di esencefalia che è il cervello che si sviluppa fuori dal corpo e non è neppure molto insolito nel mondo di oggi ecco le sostanze che trovi nel tè caffè e cacao trovi la teofillina nel tè la teobromina nei prodotti di cacao e trovi la caffeina nel tè e nel caffè ora queste sostanze normalmente farebbero in modo che gli animali se non sono adattati a quel particolare composto stanno lontani da queste piante e questo è un modo nel quale gli animali si relazionano col regno vegetale ma cosa accade quando un animale ingerisce qualcosa per cui non è predisposto bene allora queste reazioni negative quindi cosa accade quando per esempio ingerite della caffeina nel vostro corpo la prima cosa che accade in aggiunta agli effetti negativi già menzionati è che la caffeina ha un effetto sulla ghiandola surrenale che rilascia secreta ormoni due di questi l'adrenalina e il cortisone l'adrenalina è l'ormone che crea l'effetto della lotta o fuggi e quindi il corpo si prepara per lottare per difendersi o per fuggire come un fulmine una di queste reazioni ok il cortisone d'altra parte è prodotto per prevenire l'infiammazione nel caso di una lesione ed è anche prodotto per assicurare che ci sia energia sufficiente per lottare e fuggire e quello che succede è che il cortisone influenza il fegato ed il fegato rilascia una grande quantità di glicogeno nel flusso sanguigno è la stessa cosa che bere un grosso bicchiere di acqua e zucchero quindi c'è tutto questo zucchero che si mette di colpo nel flusso sanguigno pronto per l'azione per la reazione da stress che bisogna affrontare ma perché la gente beve caffè e forse per fare una corsa estenuante o per picchiare qualcuno è per questo no è solo per svegliarsi e dove si siedono mentre lo bevono alla loro scrivania al computer e quindi che cosa accade tutto ad un tratto uno beve il suo caffè e causa un forte aumento di glucosio questo significa che la persona si sveglia ed infatti si sta preparando per correre o per difendersi o per picchiare qualcuno ma non lo fa continua soltanto al computer e allora adesso come reagirà il corpo dirà oh dobbiamo affrontare un'emergenza e deve far fronte a questo forte aumento di glucosio e quindi rilascia insulina e fa scendere i livelli di glucosio e immediatamente la persona è ipoglicemica come l'abbiamo descritta in precedenza questo significa che la persona si sente letargica stanca stressata qual è la soluzione al problema ha bisogno di un'altra tazza di caffè quindi prende un'altra tazza di caffè e mette in moto lo stesso processo più e più e più volte ed invece di agire secondo lo stress che si crea con il caffè si bloccano le reazioni e si tratta il corpo in un modo totalmente differente ed è la peggior cosa che una persona può fare con il proprio corpo il tè ecco qui una tipica piantagione di tè guardate quanto è bella e squadrata in modo esatto e qui c'è il mio esempio di questo bell'animale l'eyland gigante ora l'animale che vedete sullo schermo non mangia il tè mangia foglie di acacia ora l'eyland è attratto dalle foglie di acacia e le foglie di acacia hanno del tannino mentre l'animale mangia dall'albero di acacia l'albero di fatto protegge se stesso contro l'eccessivo pascolo allora succede che quando le foglie vengono spezzate rilasciano un feromone ed il feromone avvisa l'albero e gli altri alberi intorno che qualcosa sta spezzando le foglie è un sistema affascinante e l'albero risponde incrementando i livelli di tannino in tutte le foglie e allora ad un certo punto l'eyland morderà la foglia è astringente quindi lascia l'albero e se ne va altrove non mangerà dall'albero vicino perché è già stato avvertito ed è anche lui non piacevole al palato e quindi camminerà per 50 metri e ricomincerà a pascolare di nuovo e poi la stessa cosa succederà ed è per questo che gli animali pascolano e camminano pascolano e camminano pascolano e camminano è un sistema meraviglioso gli evoluzionisti dicono che è stato sviluppato dall'evoluzione io credo che sia stato disegnato così io credo che Dio abbia disegnato il sistema in quell'albero per evitare che l'eyland cosa impedirebbe altrimenti a questo animale di spogliare l'albero intero cosa glielo impedisce niente ma c'è un meccanismo che gli dice hai mangiato abbastanza ora vai a mangiare altrove ora c'è qualcos'altro di interessante un albero vuole crescere e perciò le foglie giovani ed i germogli sono anch'essi protetti poiché l'albero inserisce alti livelli di questi composti detestabili nelle foglie giovani lo chiamiamo in inglese l'ephemeral tissue il tessuto tegumentale esterno nelle foglie giovani e nei germogli e poi quando gli animali vengono e mangiano mangiano le foglie più vecchie piuttosto che quelle giovani perché quelle giovani non sono piacevoli al loro palato ed in questo modo l'albero può in realtà crescere anche se viene pascolato è un processo logico vero? immaginate se gli animali arrivassero e mangiassero solo le foglie giovani l'albero non sarebbe in grado di crescere nessuna pianta crescerebbe sarebbe la loro fine quindi la natura è progettata per non permettere il sovrapascolo e per permettere la crescita delle piante anche se esse sono una fonte di cibo per gli animali è veramente un sistema magnifico quindi ora che cosa abbiamo dimostrato? quando questi livelli sono alti sono dei deterrenti per gli animali causano loro dei problemi digestivi causano la repressione degli enzimi e processi come quelli e quindi vediamo che cosa accade quando si va a raccogliere il tè notate che queste piantagioni sono squadrate in cima e sui lati come è accaduto? vedete quello che fanno è questo hanno scoperto che non va bene potare le singole foglie il modo migliore è prendere un lungo bastone camminare e cimarle tagliarle quindi loro vanno e le tagliano in questo modo loro le cimano le tagliano in questo bel modo squadrato è il modo in cui le potano questo cosa simula? se stai rompendo le foglie in questo modo che cosa stai simulando? sì è corretto simula un animale che mangia le piante quale sarà la reazione naturale delle piante dopo di questo? sarà di alzare il livello del composto che funge da deterrente e quando le foglie giovani spuntano dopo quel processo avranno livelli più alti delle sostanze deterrenti rispetto alle piante che non hanno subito lo stesso trattamento vedete la logica? e quando i raccoglitori vanno al lavoro per ottenere il tè migliore che cosa raccolgono? le due foglie in alto ed il germoglio queste contengono i livelli più alti di quelle sostanze nocive che qualunque animale che si rispetti eviterebbe ma non l'uomo l'uomo li raccoglie e cosa ne fa? bene secca le foglie e lo chiama il tè verde ma non è abbastanza per la maggior parte delle persone quindi quello che fanno è prendere queste foglie e a proposito come le seccano? abbattendo le foreste facendo una grande quantità di fumo ed asciugandole in quel modo allora prendono questo tè e lo racchiudono in tini di fermentazione e vi aggiungono dei batteri e quindi fanno fermentare le foglie ora i batteri devono vivere e che cosa mangiano per vivere? mangiano tutto quello che è commestibile in quella foglia e continuano a fermentare fino a quando tutto è sparito e che cosa rimane di quella foglia? soltanto ciò che non è usabile quindi ora quando prendete quello che resta e lo seccate di nuovo qual è il risultato? il risultato è un'alta concentrazione di tossine alla quale nessun animale che si rispetti si avvicinerebbe sarebbe astringente e sarebbe amara e sarebbe un deterrente del gusto e del metabolismo e cosa ne facciamo noi? prepariamo una soluzione e la versiamo in una tazza e quindi diciamo bevila ora fate la prova con un bambino dandogli una tazza di tè nero ad un piccolo bambino e guardate la sua faccia prenderà un sorso e cosa farà? e lo sputerà vero? e cosa facciamo noi? ovviamente la cosa è imbevibile è amara come la bila è piena di tossine dobbiamo renderla bevibile quindi cosa aggiungiamo? zucchero perché è amara ora aggiungiamo lo zucchero per togliere il gusto amaro noi siamo gli animali più stupidi del pianeta senza dubbio aggiungiamo lo zucchero ed allora è ancora astringente quindi che cosa aggiungiamo per prevenire questo e renderlo più cremoso? aggiungiamo la panna e finalmente possiamo bere questa miscela disgustosa ed è ancora così perfidamente sgradevole che bisogna farne una necessità culturale allora lo mettiamo in una piccola tazza linda alziamo il dito ed insegniamo a tutti che bisogna berlo in questo modo e poi dobbiamo dire alla fine e ora che avete imparato questo siete diventati dei bevitori di tè giusto? e così ci sono animali tanto imbecilli sulla faccia della terra nessun altro animale farebbe questo eccetto l'uomo quindi il caffè ed il tè sono cattive cattive notizie ma ho delle buone notizie per voi ci sono molte molte piante nel mondo che possiedono dei fitochimici molto buoni e le tisane gli infusi di erbe non sono fatte solo da due foglie ed un germoglio come vengono fatte le tisane prendono l'intera pianta ed usano la pianta intera per preparare gli infusi di erbe quindi questo è il metodo migliore e poi ho un'altra bella notizia per voi ci sono delle tisane degli infusi di erbe in commercio che hanno lo stesso gusto cattivo del tè nero quindi non dovete abbandonare nulla cambiate soltanto con un infuso d'erbe dal gusto orribile ed il vostro problema è risolto ed aggiungerete ciò che volete per renderlo gradevole al palato ma la buona notizia è che ci sono anche degli infusi d'erba delle tisane che hanno un gusto gradevole perciò fatevi un favore anche per il sapore e cominciate a bere tisane e lasciate da una parte le bibite che hanno alcaloidi fonti di caffeina sono ad esempio i chicchi di caffè macinati contengono da 66 a 80 mg in due tazze di bevanda e il caffè che viene comunemente filtrato contiene da 110 fino a 180 mg questi sono i tipici caffè il decaffeinato ne contiene molto poca ma il decaffeinato contiene le sostanze usate per estrarre la caffeina che sono ugualmente dannose perché queste sostanze sono normalmente dei composti organici con i quali si dissolve la caffeina quindi stiamo eliminando la caffeina ma stiamo aggiungendo delle sostanze usate per estrarla i tè come vedete sono anche loro ricchi in caffeina e le bevande al gusto di cola hanno della caffeina quindi la coca cola ti dà una doppia botta 12 cucchiaini di zucchero più la caffeina ti dà una doppia botta la coca cola quindi non dovrebbe essere bevuta da nessun essere umano infatti quella società qual è il nome del prodotto coca coca cola perché perché all'estratto di cosa della pianta della cocaina e al giorno d'oggi devono estrarne la droga ma provoca la sua fazione o lo faceva nel passato probabilmente ed ora aggiungono la caffeina per risolvere il loro problema perché anche questo crea la sua fazione perché ti rende costantemente ipoglicemico con il basso livello di zucchero che si regola con la bibita e crea la sua fazione i prodotti al cioccolato hanno cattive cattive notizie guardate tutti i prodotti e considerate la teobromina che possiedono e poi le medicine per far fronte ai raffredduri prodotti per il controllo del peso diuretici insomma inseriscono queste sostanze dappertutto ad esempio una semplice barretta di cioccolato al latte della marca inglese Cadbury di 28 grammi contiene 44 milligrammi di teobromina due cucchiai di sciroppo al cioccolato 89 milligrammi latte al sapore di cioccolato 120 milligrammi e noi lo diamo ai nostri bambini in tutti i momenti non capisco perché lo facciamo al giorno d'oggi puoi comprare marche di latte di soia che contengono prodotti al cioccolato ed al cacao però perché non ne fanno una marca con la carruba perché devono farla con prodotti che contengono caffeina e teobromina io non li bevo guardo soltanto le persone che li bevono ecco quindi un gruppo di sostanze che possiamo evitare ricordate che questa conferenza è chiamata tu alla salute tu alla scelta è una tua scelta se vuoi bere prodotti al cacao o se vuoi bere del tè e del caffè quando invece potresti bere tisane o infusi all'erbe e potresti rimpiazzare i prodotti al cacao con i prodotti alla carruba e rieducare il tuo palato senza dover veramente rinunciare a nulla semplicemente cambi verso qualcosa di migliore c'è qualcos'altro che facciamo grassi e malattie cardiovascolari i tipi di grassi che ingeriamo sono molto importanti in termini di come viviamo e come moriamo ad esempio la più grande causa di mortalità per il sesso maschile sono le malattie al cuore e circa il 27% degli uomini muoiono di malattie cardiache tra le donne la situazione è migliore o almeno così sembrerebbe solo il 18% delle donne ha la probabilità di morire di una malattia cardiaca ma e qui c'è il problema questo è un articolo dal New Scientist la verità sorprendente sul cuore delle donne se una donna ha un infarto ha il 72% in più di probabilità di morire da questo infarto che un uomo il 72% in più di possibilità di morire rispetto a un uomo perché la ragione è che una donna ha gli ormoni chiamati estrogeni e gli estrogeni sono la causa del problema quando una donna ha un infarto allora il cuore va in fibrillazione ma non solo il cuore i grandi vasi sanguigni che originano dal cuore questi vasi sanguigni vanno in fibrillazione ed è questo che aumenta grandemente il rischio di mortalità per un uomo che non ha questi livelli di estrogeni se il cuore va in fibrillazione e se con una scarica elettrica lo possono portare di nuovo alla normalità tutto va bene ma perlomeno i vasi sanguigni non vanno in fibrillazione e se i vostri vasi sanguigni fibrillano allora il sangue non può passare e quindi si interrompe il flusso di ossigeno al cervello e quindi si muore quindi una donna ha più probabilità di morire da infarto che un uomo se considerate le tipiche statistiche degli stati uniti ad esempio allora vedrete che almeno un quarto della popolazione ed è qualcosa di spaventoso ha qualche forma di malattia cardiovascolare come la pressione alta 50 milioni di persone coronaropatia o malattie legate alle coronarie 12 milioni infarto del miocardio 7 milioni angina pectoris 6,2 milioni ictus o colpo apoplettico 4,4 milioni febbre reumatica e malattie cardiache 1,8 milioni questo ce lo dice l'American Heart Association è abbastanza spaventoso e i livelli di colesterolo sono molto molto alti 98,1 milioni di adulti americani hanno alti livelli di colesterolo persino i ragazzi di 19 anni hanno un livello di colesterolo di 165 mg per decilitro c'è solo una nazione che può competere con loro ed è la Finlandia nessun'altra nazione e questa è la ragione questa è la loro dieta una dieta che causa livelli di colesterolo molto alti i prodotti caseari causano forti aumenti di colesterolo uova prodotti di carne questi sono i responsabili anche i frutti di mare sono relativamente alti e le uova di pesce ad esempio 300 mg il salmone è abbastanza alto gamberetti tutti questi prodotti che usano specialmente qui nella vostra regione causano una dieta con colesterolo molto alto come vediamo qui sopra i derivati del latte prodotti caseari uno dei cibi con un alto livello di colesterolo lo analizzeremo dopo mentre i cibi grassi nel regno vegetale come gli avocado le nuci di cocco non causano aumenti di colesterolo c'è un'opinione che dice che causano alto colesterolo ma non lo fanno non causano per niente alto colesterolo perché le proteine contenute in questi cibi sono vegetali e come risultato diminuiscono il colesterolo e nell'avocado l'olio che contiene è monoinsaturo ed abbassa il livello di colesterolo quindi niente colesterolo alto da questi prodotti qui vediamo un modo tipico su come si formano le ostruzioni nei vasi sanguigni però questo è ciò che volete avere un bel vaso sanguigno pulitissimo senza alcuna di queste ostruzioni la gente oggi dice che il colesterolo non è in realtà il problema ed infatti hanno ragione il colesterolo non è il problema in se stesso è il modo in cui il colesterolo è distribuito quello è il problema questo è lo studio sul cuore di Framingham che mostra chiaramente che più colesterolo c'è più esiste il rischio di malattie cardiovascolari quindi sì il rischio è più alto ma il modo in cui il colesterolo è distribuito gioca un ruolo molto molto importante se avete il colesterolo che ostruisce le vostre arterie allora lo spazio disponibile il lume delle arterie diventa minore e quindi avrete un più grande rischio di un malanno ecco una tipica formazione di placca fibrosa notate quanto sia diventato piccolo il lume lo spazio disponibile questa è una persona che è morta di un infarto e potete vedere qui sopra le ostruzioni nelle arterie quindi la placca è questa massa di grasso e colesterolo l'arteriosclerosi è l'indurimento dell'arteria spesso si trovano dei depositi di calcio perché le diete sono talmente acide che il calcio si deposita persino nei vasi sanguigni poi si possono formare delle ostruzioni dei trombi che cominciano a circolare e causano ictus ed infarti e molti problemi come questi a proposito se siete afroamericani avrete il doppio delle probabilità di avere queste malattie paragonati con persone di origine europea caucasica ed è così che è distribuita la probabilità è così che stanno le cose ed io penso che la ragione sia che la popolazione americana che è derivata dai neri africani in Africa hanno avuto un tempo minore per adattarsi alla dieta ricca di grassi in confronto con le società europee occidentali quindi è qualcosa che abbiamo ereditato col tempo una migliore capacità di affrontare una cattiva dieta in confronto con lo sfortunato popolo nero che ha avuto una storia più breve a contatto con tale dieta ora qui abbiamo qualcosa che è veramente affascinante l'American Heart Society ha cominciato ad avvertire contro i grassi saturi e a dire che erano questi a causare le malattie cardiache e dagli anni 70 in avanti questo ha cominciato a fare effetto l'americano medio ha cominciato a cambiare la propria dieta ha cominciato a ingerire più grassi polinsaturi e meno grassi saturi è corretto? ed hanno detto a tutti di cambiare da cosa a cosa? dal burro alla margarina corretto e guardate ha funzionato benissimo questo è il diagramma americano e potete vedere che gli infarti sono calati drasticamente tra il 1970 e il 1993 quando questa campagna pubblicitaria informativa ha reso coscienti le persone che dovevano cambiare la propria dieta nel Regno Unito avete esattamente la stessa cosa sono stati un pochino più lenti nel decollare ma anche il loro ratio di infarti è diminuito in generale i giapponesi non hanno avuto quel problema in questi anni non hanno avuto il problema quindi ovviamente il problema erano i grassi saturi e quindi in tutto il mondo le campagne pubblicitarie informative cominciarono a dire di passare ai grassi polinsaturi e così prevenire le malattie cardiache molto bene ma che dire sui grassi e il cancro durante lo stesso periodo di tempo mentre diminuivano gli infarti nello stesso periodo il cancro aumentava il cancro al seno aumentò vertiginosamente il cancro alla prostata aumentò vertiginosamente allora qual era il problema qual era il problema ratei a livello mondiale del cancro Ungheria Cecoslovacchia Lussemburgo Danimarca Scozia Ungheria Inghilterra Galles tutte le nazioni ad alto consumo di grasso sono state quelle che hanno mostrato i ratei di cancro più alti e così negli anni 80 hanno cominciato a fare studi scientifici e hanno scoperto che la dieta di una persona è influenzata da quello che si mangia e in modo particolare dal contenuto di grassi ingeriti quindi più grasso è consumato da una nazione più è alto il rischio di cancro i paesi bassi l'Olanda ad esempio ha un livello molto alto la Danimarca Inghilterra Nuova Zelanda Canada Svizzera Stati Uniti questi sono al vertice della heat parade dei paesi delle nazioni con il più alto consumo di grassi ed hanno chiaramente dimostrato che se si nutre un ratto con dei carcinogeni queste sono sostanze che producono il cancro e lo si nutre con una dieta ricca di grassi allora avrà più cancro che se lo si ciba con una dieta povera di grassi infatti il cancro si raddubbia quindi ovviamente il grasso era relazionato con la causa del cancro ed i tipi di cancro in particolare erano quelli del seno del colon del retto della prostata e del pancreas questi erano i cancro indotti da prodotti grassi i livelli di cancro mondiali per il cancro del seno e della prostata vediamo il cancro della prostata svizzera e norvegia sono in cima alla heat parade li tratterò quando parlerò dei prodotti derivati dal latte cancro al seno inghilterra e galles danimarca scozia irlanda e quelle nazioni nuova zelanda tutte le nazioni con un consumo forte di grasso animale sono quelle a capo della lista cancro colorettale lo stesso tipo di diagramma nuova zelanda al vertice ungheria danimarca queste sono le nazioni con più cancro nel mondo e adesso parleremo della manipolazione delle sostanze grasse del cambiare la struttura del grasso che cosa significa ora qui abbiamo una molecola di grasso saturo normale notate che non ci sono i legami insaturi lì sopra qui vediamo invece una molecola di grasso insaturo e vedete un doppio legame qui e un doppio legame qui e un doppio legame qui perciò questa è una molecola di grasso polinsaturo ovunque esiste un doppio legame la molecola fa una piega come nell'esempio come una via ok e così la molecola a causa di queste pieghe è una molecola aperta ha delle aperture e ciò significa che l'ossigeno può entrarci molto rapidamente quindi la molecola di grasso insaturo tende a ossidarsi molto rapidamente e quando si ossida forma dei radicali liberi quindi quando estraete un grasso questo comincia ad ossidarsi e quanto più è insaturo tanto più forma dei radicali liberi ad esempio un grasso polinsaturo è instabile e forma radicali liberi col tempo quindi avete bisogno di un equilibrio tra polinsaturi e antiossidanti e gli antiossidanti naturali che trovate nelle piante sono la vitamina A vitamina C vitamina E e la vitamina E è inclusa all'interno del seme che contiene anche l'olio in un seme in un seme di girasole l'olio è presente insieme agli antiossidanti e quell'olio rimane stabile ma appena estraete quell'olio lo esponete all'aria e dovreste aumentare drasticamente il totale di vitamina E di 200 volte prima che smetta di ossidarsi ma questo non si fa dopo l'estrazione quindi si estrae l'olio e questo forma questi radicali liberi e forma tutti questi composti per ossido aldeide chetoni tutti questi cattivi compagni ora quando viene estratto l'olio per estrarne il più possibile dal seme viene anche riscaldato quindi per esempio quando scaldate un grasso saturo e polinsaturo e lo scaldate fino a 170 gradi per due ore esso causa disturbi di fegato quando lo date da mangiare a un animale parliamo di gradi centigradi quasi il doppio se parlate di Fahrenheit tutti i grassi scaldati a 180 gradi centigradi che è circa 360 gradi Fahrenheit durante due ore o più produrranno disturbi seri al fegato e un grasso triinsaturo subirà un'autossidazione 10.000 volte più veloce che un acido grasso monoinsaturo ora questo è il problema quando si estrae quell'olio dal seme con il calore normalmente lo scaldano a 200 gradi centigradi cioè a 400 Fahrenheit e lo si fa per due ore quindi quando lo comprate quell'olio potrebbe causare seri disturbi al fegato di un ratto ora cosa fate con quell'olio quando lo comprate ci cucinate quindi lo scaldate a quale temperatura lo scaldate molto alta se avete una piastra come fornello che è rosso significa che sono 600 gradi perché potete vedere la luce mettete la vostra padella lì sopra e la scaldate e ci cuocete quello che vi pare lì dentro state soltanto creando moltissimi radicali liberi ora che dire del negozio fast food all'angolo che ha un grande tino con olio bollente e ci mettono dentro le patatine che si friggono quanto a lungo viene scaldato quell'olio wow state proprio comprando carcinogeni potrei avere un pacchetto di carcinogeni per favore grande o piccolo signore beh c'è differenza di prezzo sì quanto più carcinogeno compra signore tanto più è costoso oh bene posso averne un po' per favore non è quello che facciamo è vero questa è una cattiva cattiva notizia notate che un grasso treinsaturo si ossida diecimila volte più velocemente che un grasso monoinsaturo ora sappiamo che il grasso saturo non è in realtà buono ed infatti il grasso saturo di origine animale è il peggiore di tutti sapete perché? perché non ha antiossidanti zero nessuno quindi quando prendete un grasso animale e friggete in esso si ossida rapidamente perché in esso non ci sono antiossidanti se prendete un grasso vegetale almeno contiene degli antiossidanti ora pertanto quale grasso sarebbe il migliore da usare? un treinsaturo un monoinsaturo o uno saturo quale? notate che il monoinsaturo sarà sottoposto ad una ossidazione diecimila volte più lenta che un treinsaturo allora qual è il miglior grasso da prendere se stai usando un grasso estratto? il monoinsaturo senza dubbio il monoinsaturo sarà il migliore da usarsi con quale processo bisognerebbe estrarlo? con il calore o spremuto a freddo? spremuto a freddo è tutto molto logico e puoi scegliere puoi andare al negozio e scegliere carcinogeno o polinsaturo o monoinsaturo estratto a caldo oppure monoinsaturo spremuto a freddo è la tua scelta naturalmente influenzerà le tue tasche ma influenzerà anche la tua salute quale dovresti comprare? olio monoinsaturo spremuto a freddo quale pensi sia il migliore sul mercato? l'olio di oliva perché? l'olio di oliva ha passato l'esame del tempo anche l'olio di canola è principalmente un grasso monoinsaturo ma proviene dalle rape e contiene altri componenti che non dovrebbero essere trattati così caldi e generalmente parlando è un olio che si appiccica più velocemente quindi se si usa olio dovrebbe essere monoinsaturo l'olio d'oliva e potete vedere su questo grafico le linee per il grasso saturo polinsaturo monoinsaturo quest'ultimo ci mette più tempo prima di cominciare ad ossidarsi infatti comincia ad ossidarsi veramente soltanto dopo essere stato scaldato per circa un'ora o due quindi se acquistate un olio spremuto a freddo e lo versate sopra delle patate e le mettete e le mescolate tutte e le infilate nel forno e le cuocete a 200 gradi centigradi che è 380 400 fahrenheit e le cuocete per un'ora avrete delle patatine dorate marroncine ed avrete moltissimi meno carcinogeni che se usate olio di semi di girasole quindi fate le patatine fritte in questo modo non dovete smettere di mangiarle non mangiatele tanto spesso ma quando le cucinate preparateli in questo modo qui vediamo un tipico polinsaturo acido linoleico ed acido linolenico ora questi sono acidi grassi essenziali questo significa che è essenziale averli nella dieta ne abbiamo bisogno non possiamo vivere senza di loro dobbiamo averli e possiamo averli soltanto attraverso la dieta ora qual è il modo migliore per averli estratti o nei prodotti integrali che li contengono in modo naturale nei prodotti integrali è il modo migliore per assorbirli margarine ed oli idrogenati sono un altro problema che affrontiamo oggi US News riporta è una violazione della legge fare affermazioni che i polinsaturi possano prevenire o curare le malattie cardiache molto interessante cosa sta succedendo qui olio nelle margarine può essere di soia mais girasole oliva noce di cocco olio di palma ci saranno emulsionanti conservanti coloranti aromi poi si passa per un processo che rimuove delle gomme la neutralizzazione con soda caustica candeggio filtraggio e poi un processo chiamato idrogenazione riscaldamento ed un catalizzatore e dell'idrogeno viene filtrato neutralizzato candeggiato deodorizzato eccetera e quindi ci fanno la margarina va bene ora l'olio è un liquido gli oli vegetali sono liquidi ed i polinsaturi sono ancora più liquidi che i saturi quindi ora normalmente tutti gli oli naturali sono in una forma che chiamiamo isomeria cis significando che se avete il doppio legame i due lati delle braccia chimiche sono sullo stesso lato del doppio legame ora quando cambiate questo grasso e lo idrogenate voi scambiate la direzione di un braccio il risultato è ciò che si chiama una forma trans ora le braccia sono ai lati opposti lo spiego sempre così ai miei studenti è come dare un abbraccio a qualcuno se le due braccia sono sullo stesso lato puoi dare loro un abbraccio però è molto difficile dare un abbraccio a qualcuno quando assomigliate a questo è molto difficile quindi questa forma è l'unica che il nostro corpo riconosce abbiamo enzimi per questa forma ma non abbiamo enzimi per quella forma ora perché essi cambiano la forma da questa a quella la risposta è questa quella forma è un liquido l'isomero a forma di cis è un liquido e l'isomero trans si dà il caso che sia un solido e sanno che tu non vuoi versare la tua margarina sopra il pane invece vuoi spalmare la tua margarina sopra il pane è logico? e c'è ancora un'altra cosa quando è in questa forma nel modo trans i batteri non hanno gli enzimi per riconoscere questa molecola il che è molto gradito all'industria ciò significa che questo grasso non irrancidisce e sapete una cosa? la generazione più giovane non conosce cosa sia il rancido non lo conoscono è diventato rancido quando l'avete sentito l'ultima volta non esiste più perché no? non diventa rancido perché non diventa rancido? perché i batteri non lo vogliono più e perché non lo vogliono più? perché non riescono più a digerirlo sono buone notizie? hanno gli stessi enzimi per digerire che io e te usiamo per i grassi e allora neanche noi possiamo digerire questi grassi allora cosa è realmente la margarina se è piena di grassi trans? è una sostanza estranea io lo chiamo lucido da scarpe vedete avete già risposto io lo chiamo lucido da scarpe va bene per le scarpe ma per il consumo umano no quindi adesso se avete ingerito un grasso che non riconoscete cosa ci fate? cosa volete fare con questo grasso? lo conserverete in un posto dove non lo userete mai non mettete forse le cose che non usate nella credenza in alto? quindi lo immagazzinerete sotto la pelle il più lontano possibile dalla sorgente di calore del corpo e poi esso comincerà a entrare nel tessuto connettivo e farà delle protuberanze e uno le guarda e dice oh ho la cellulite e uno comincia ad allenarsi come un pazzo ma sapete che quel grasso non se ne va lo avete notato? la cellulite proprio non vuole sparire il solo modo per averne ragione è smettere di mangiare questa plastica che è grasso trans e fare esercizio alla fine se ne andrà via attraverso la pelle perché la vostra pelle è oleosa le cellule scoppiano e il grasso viene rilasciato in quel modo e questo risolve il problema quindi i grassi trans non sono cibo non sono adatti al consumo umano non sono mai stati intesi per essere un cibo vanno bene per l'industria ed io ho scoperto durante gli anni che ciò che è buono per l'industria normalmente è cattivo per noi non è così? va bene ora sfortunatamente hanno scoperto che se aggiungono una certa percentuale all'olio normale per farlo rimanere ancora liquido ai batteri non piace molto quindi quando comprate degli oli olio di semi di girasole liquido leggete l'etichetta e a volte dice che è parzialmente idrogenato lo avete già letto sull'etichetta? questo significa parzialmente inadatto al consumo umano leggetelo così la prossima volta ok? e perciò non usatelo se usate una margarina usatene una che non contenga grassi trans solo oli naturali e che usi qualcos'altro per renderlo densa come la maizena o amido di mais o qualcosa di simile che normalmente si usa uno può comprare margarine come quelle ma parlando generalmente qualsiasi olio estratto è una cattiva notizia volete che vi spieghi il perché? prendete un respiro continuiamo pensate a questo se io prendo un catino d'acqua e ci verso dell'olio dentro e dopo prendo dell'acqua bollente acqua calda e quindi prendo un piatto e vado ad immergerlo e lo tiro fuori come sarà il mio piatto unto se ci passate il dito sopra avrete una pellicola d'olio sopra di esso non è vero? ora se prendete del grasso libero e lo ingerite e arriva nel vostro stomaco che è come acqua calda a 37 gradi ci mettete del cibo e lo immergete ed ogni pezzo di cibo avrà uno strato d'olio sopra di sé questo significa che l'enzima che è solubile in acqua nel tuo stomaco non può arrivare al cibo quindi la digestione sarà più lunga e si avrà della fermentazione quando il tutto passa al resto dell'intestino ed arrivano gli acidi biliari ed il grasso diventa miscibile perché è già estratto ed il grasso va nel sangue qui nella parte alta dell'intestino e finisce nel sangue ed ora il sangue contiene del grasso e tutte le cellule del sangue consideratele come dei piatti stanno per essere immerse 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 nel grasso ora le cellule del sangue contengono questa sostanza e lo scambio di ossigeno si rallenta questo significa che si riceve meno ossigeno al cervello questo è il motivo per il quale se uno ha un pasto grasso poco tempo dopo uno comincia a sbadigliare e si addormenta non è vero? mentre se non hai grasso libero nella tua dieta il grasso deve prima essere digerito e viene rilasciato come grasso libero più in basso nell'intestino e viene assorbito molto più in basso nell'intestino e non va direttamente nel normale flusso sanguigno deve prima passare per il portale alimentare passare prima di tutto dal fegato il fegato ci lavora sopra come in una fabbrica e lo fa riuscire passando del sangue pulito al cuore e non avrete mai quel problema di sonno quindi se avete una dieta di cibi integrali dovreste stare svegli arrivo in classe e i miei studenti sono tutti addormentati è un incubo un incubo quindi passare alla margarina le donne che mangiano 4 o più cucchiaini di margarina al giorno hanno il 66% più rischio di malattie cardiache rispetto alle donne che ne mangiano meno di una volta al mese ora perché questo i livelli dell'acido grasso trans nella margarina sembrano essere il problema quindi non bisogna ingerire grassi trans questi non sono un cibo ed essi causano malattie cardiovascolari ed i polinsaturi causano cancro la margarina non è una buona idea non è una buona idea quindi con cosa la rimpiazzeremo? ci sarà un'altra conferenza prossimamente su questo tema sbarazziamoci dei radicali liberi ne abbiamo già discusso quindi ciò che vorrete nella vostra dieta siccome dovremo far fronte a questi rischi sarà molta frutta e verdura e cibi naturali come questi nella vostra dieta per aiutarvi a far fronte a quella situazione che abbiamo discusso nella precedente conferenza tutti questi vi aiuteranno a far pulizia di questi radicali liberi ed è veramente importante che non li guardate soltanto ma che effettivamente li mangiate ora voglio parlarvi di un vero rischio nel mondo di oggi vorrei farlo brevemente sono gli additivi ed avete un'altra scelta quindi abbiamo visto che vostra la salute vostra la scelta potete scegliere che olio volete comprare non dovete rinunciarvi dovete soltanto scegliere quello che sarà meglio per voi potete mangiarlo nella forma integrale o mangiarlo nella forma estratta ci sono molte molte cose che potete fare ma potete anche analizzare quello che mettono nel cibo gli additivi oggi ci sono circa 8000 additivi elencati dalla organizzazione mondiale per la salute il loro numero sta incrementando drasticamente dagli agenti antiagglomeranti agenti antischiuma coloranti sbiancanti agenti di rigonfiamento carica emulsionanti stabilizzanti agenti rassodanti aromatizzanti gelificanti conservanti la lista è senza fine e ci sono molte intolleranze alimentari che hanno le persone avete degli effetti tossici non immunologici e poi avete degli effetti immediati ritardati psicologici e fisiologici dal 10 al 20% della popolazione asmatica una buona parte può essere alleviata solo eliminando gli additivi come la carenza di solfito ossidasi che conduce all'asma i derivati del latte sono un altro prodotto che vedremo più tardi ora gli additivi alimentari sono usati con tutte queste varietà come coloranti eccetera alcuni di loro sono usati durante il processo come gli schiumogeni gli agenti antischiuma agenti di controllo del pH e tutto il resto ed alcuni sono usati nel prodotto finale come gli antiossidanti i coloranti gli agenti di controllo del pH ed altri agenti per mantenere i prodotti croccanti eccetera e queste sono alcune delle reazioni comportamentali emicrania ipercinesia cioè iperattività super pigrizia fotofobia depressione comportamenti irrazionali tutti questi idee paranoiche persino cecità momentanea e poi tutti questi disordini nervosi insonnia stanchezza tic nervosi tutti questi possono essere attribuiti agli additivi alimentari i dolcificanti sono uno degli additivi peggiori in quanto a conseguenze sono usati al posto dello zucchero come sapete la saccarina è molto comune tra questi è implicata in aritmie cardiache causa prurito nausea gonfiori bolle è mutageno è elencata come carcinogeno ed è proibita in alcune nazioni alcuni paesi non l'hanno proibita non so se non penso che gli stati uniti in realtà l'abbiano proibita è una delle nazioni dove la trovate quindi la saccarina è una sostanza che non dovremmo ingerire ma uno degli additivi più dilagati nel mondo odierno è l'aspartame viene usato ovunque è usato nelle bibite energetiche è usato nelle bibite sportive è usato nei dolci è usato così ampiamente che è spaventoso dovreste vedere dove viene usato aspartame è il nome tecnico di marche come NutraSweet Equals Spoonful Equal Measure tutti questi e si stima che sia alla base del 75% delle reazioni avverse agli additivi alimentari negli Stati Uniti per esempio ci sono circa 90 sintomi associati ad esso mal di testa emicrania capogiri attacchi epilettici nausea stordimento spasmi muscolari aumento di peso eczemi depressione irritabilità tachicardia accelerazione del ritmo cardiaco insonnia mancanza di sonno problemi visivi perdita d'udito palpitazioni cardiache difficoltà respiratorie attacchi d'ansia difficoltà nel linguaggio perdita del gusto acufene vertigini perdita di memoria dolori articolari la lista è senza fine è definitivamente un additivo da evitare ma che cosa fa? questi sono i processi che possono essere attivati messi in moto dall'aspartame tumori al cervello possono attivarsi grazie all'aspartame sclerosi multipla se l'avete in modo latente può essere attivata dall'aspartame epilessia sindrome da fatica cronica parkinson alzheimer non lo causa ma lo peggiora ritardi mentali linfoma difetti di parto cose terribili ora di che cosa è composto? tre elementi chimici acido aspartico fenilalanina e metanolo due di essi sono aminoacidi quindi ci sono due aminoacidi perciò vi diranno che l'aspartame è un prodotto naturale è fatto di aminoacidi infatti gli aminoacidi liberi sono dolci e quindi molti aminoacidi funzionano da dolcificanti e la fenilalanina è probabilmente uno dei più dolci se lo prendete abbondantemente è molto dolce al palato l'acido aspartico è l'altro che è dolce al palato e poi contiene anche metanolo ora l'acido aspartico come vedete è un aminoacido che preso nella sua forma libera aumenta in modo significativo i livelli di aspartato e glutammato nel sangue ora lo stesso lo trovate nel glutammato monosodico che trovate abbondantemente nel cibo cinese l'aspartato e il glutammato sono ciò che chiamiamo eccitotossine ora le persone diranno aspetta un attimo è soltanto un aminoacido ma ora pensate a questo nessun animale al mondo nessuna creatura nel mondo si ciba di aminoacidi liberi non si fa e come assorbiamo gli aminoacidi si mangia una proteina e la proteina non è dolce quando la mastichiamo la proteina va nello stomaco e qui viene tagliata in blocchi dall'enzima pepsina poi passa nel duodeno e viene tagliata da un'altra proteina chiamata tripsina in pezzi più piccoli e poi continua più giù nell'intestino e quindi gli aminoacidi sono isolati uno ad uno dal processo che si chiama esopeptidasi questi sono gli enzimi che tagliano pezzo a pezzo quindi l'unico posto nella tua vita normale dove troverai aminoacidi liberi è giù nel fondo dell'intestino e poi dove vanno a finire allo stesso modo del grasso dove se ne va va nel fegato ed il fegato è una fabbrica è una fabbrica alimentare e costruisce ogni cosa nel tipo di proteine di cui hai bisogno e poi le trasporta dovunque devono andare quindi non avrete mai eccessi di questi aminoacidi liberi nel vostro sangue mentre se li ingerite quando sono già estratti se ne vanno dritti nel flusso sanguigno e dalla fine vanno nel cervello dove non dovrebbero stare dovrebbero essere prima regolati dal fegato ma invece se ne vanno dritti al cervello e si comportano come eccitotossine quindi i bambini diventano frenetici e gli adulti diventano depressi ora cosa causa? livelli eccessivi di fenilalanina nel cervello possono causare la diminuzione del livello di serotonina nel cervello ora cos'è la serotonina? la serotonina è un neurotrasmettitore ora gli schizofrenici hanno bassi livelli di serotonina e perciò diventano frenetici sono pericolosi possono uccidervi sono fuori controllo quindi vengono messi negli ospedali psichiatrici dove arriva lo psichiatra e gli dà una medicina per che cosa? per aumentare il suo livello di serotonina e da allora diventa abbastanza normale potete parlargli non c'è problema non c'è problema con quella persona e non appena l'effetto della medicina è finito la serotonina si abbassa e la persona diventa aggressiva quindi immaginatevi questo stiamo rendendo la nostra società aggressiva dando alle persone un'eccessiva quantità di fenilalanina i bambini che bevono queste bibite energetiche energy drink queste bibite sportive hanno livelli alti di queste sostanze e questo è quanto succede e poi diventano altamente aggressivi e a proposito gli antiossidanti che mettono negli snack come le patatine butilidrossitoluene e butilidrossianisolo fanno esattamente la stessa cosa abbassano il livello della serotonina di cosa si cibano i nostri bambini a merenda mangiano questi snack e sono iperattivi e sono aggressivi e si prendono a calci fino a farsi a pezzi cosa fa il metanolo questo è l'altro composto nell'aspartame il limite di consumo raccomandato è di 7,8 milligrammi al giorno ora un litro che è circa un quarto di gallone dunque un litro di bevanda dolcificata con aspartame contiene 56 milligrammi di metanolo date un'occhiata a questo 7,8 milligrammi è il massimo raccomandato un litro ne contiene 56 milligrammi coloro che consumano molti prodotti come aspartame consumano fino a 250 milligrammi di metanolo al giorno cioè 32 volte l'ammontare raccomandato wow questa è una cattiva notizia e questo causerà problemi e malattie incredibili quindi l'aspartame lo si può trovare ad esempio nelle colazioni istantanee mentine per l'alito leggete gli ingredienti quelle menti piccoline quelle carine e belline state attenti cereali gomme da masticare senza zucchero miscele di cacao bevande al caffè dessert congelati dessert alla gelatina succhi di frutta lassativi multivitaminici bevande al latte farmaceutici ed integratori frullati soft drink o bevande analcoliche dolcificanti da tavola tè e dovunque bevande mix di vino e succhi yogurt mettono questa roba dentro qualsiasi cosa penso che l'abbiano sulla gente per distruggere la società penso che sia quello che vogliono fare a proposito il livello di tumori al cervello nelle aree dove è stato introdotto l'aspartame è molto più alto che in posti dove non è stato introdotto quindi è anche carcinogeno il glutammato monosodico causa più o meno la stessa cosa debolezza generica palpitazioni mal di testa sudore freddo tremori specialmente nei bambini quindi cosa vi sto dicendo fondamentalmente a proposito se prendete questi dolcificanti che consistono in aminoacidi questo è quanto accade immaginate questo lo mettete nella vostra bocca e sentite il dolce la vostra lingua vi dice è dolce ora c'è una connessione nervosa tra la vostra lingua ed il vostro cervello altrimenti non sapreste che è dolce giusto ma c'è anche un nervo che è legato al vostro cervello e il cervello dice dolce ah qualcosa sta arrivando che cos'è zucchero e il cervello manda un impulso al pancreas e dice al pancreas arriva dello zucchero ed il pancreas dice il cervello dice arriva dello zucchero e comincia a produrre dell'insulina ma passa un po' di tempo e lo zucchero non arriva tutto ciò che avete sono degli aminoacidi che arrivano ed il pancreas dice ma scusa cosa succede qui dov'è lo zucchero il cervello dice io so che sta arrivando l'ho assaggiato stai dicendo che sono un bugiardo certamente no così questa comunicazione continua ed il pancreas risponde ogni volta al cervello e produce insulina e poi non succede nulla non arriva lo zucchero e indovinate che accade poi è proprio come ai bambini ai quali viene detto troppo spesso qualcosa allora cosa fanno lo filtrano e non ti ascoltano più e quindi il pancreas smette di reagire ed ora ingerite un grosso dolce ed il cervello dice zucchero in arrivo ed il pancreas dice non ci credo e immediatamente dopo lo zucchero è nel sangue ed allora cosa avete? avete una crisi avete una produzione di insulina insufficiente quindi dolcificanti sono brutte notizie se volete rendere qualcosa dolce allora usate i datteri per esempio o prodotti naturali come questo quindi le conseguenze sono mal di testa sudorazione attacchi epilettici tremori tutti questi sintomi avversi gli antiossidanti di cui abbiamo già parlato butilidrossitoluene e butilidrossianisolo sono quelli che mettono in tutti gli snack questi abbassano pure i livelli di serotonina fino al 40% è come per gli schizofrenici state facendo diventare schizofrenici i vostri bambini i coloranti causano iperattività aggressività reazioni allergiche shock anafilattici la tartrazina è particolarmente nociva i conservanti come i solfiti che usano causano attacchi d'asma per esempio e sono anche mutageni quindi se comprate qualcosa che è stato trattato con il solfito allora quello che dovete fare è immergerlo nell'acqua come la frutta secca la immergete nell'acqua poi buttate via l'acqua e quindi non avete più quel prodotto sul cibo il benzoato di sodio è un conservante molto comune in molti prodotti derivati dal latte quasi tutte le margarine lo contengono è molto simile alla tartrazina quindi è ipercinetico è bene evitarli i nitriti sono carcinogeni i nitriti che mettono nella carne fredda e nei formaggi ah ma vi troveremo un rimedio quindi non è un problema perciò quando leggete su queste bottiglie è un incubo andare a fare compiere in un supermercato per me è diventato un incubo sto di fronte agli scaffali e leggo le etichette e metto giù questi prodotti qualunque tipo di prodotti burro di arachidi vuoi andare a comprare burro di arachidi leggi le etichette e chiamo il manager del supermercato mia moglie si vergogna e corre via e gli dico mi scusi signore stavo cercando del burro di arachidi e non sembra che riesca a trovarlo e lui dice ma signore è qui proprio di fronte a lei io dico no signore non dei rifiuti tossici ma del burro di arachidi permetta che le mostri e quindi gli do la lista degli ingredienti e gli spiego cosa fa ognuno di loro e gli dico non avrebbe del burro di arachidi questa e questa e quest'altra marca non hanno questi ingredienti nocivi perché avete soltanto queste marche sugli scaffali non potreste ordinare prodotti per persone che cercano cibo e non rifiuti tossici per favore e se abbastanza persone fanno la stessa cosa alla fine avrete del cibo sugli scaffali quindi pressione 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 e leggete e imparate a leggere le etichette e cominciate a cambiare verso questi tipi di alimenti e so che ci sono problemi anche con questi prodotti a causa degli spray e di tutte queste cose e li affronteremo mentre procediamo ma questo è il cibo salutare che previene molti di questi problemi quindi fondamentalmente vostra la salute vostra la scelta cominciate a leggere le vostre etichette non prendete le marche che hanno queste sostanze scegliete quelle che non le contengono per esempio una cosa semplice se volete comprare del ketchup uno contiene aceto come agente per renderlo acido l'altro contiene acido citrico e nel mio paese abbiamo tutti e due tipi uno con acido citrico e l'altro con l'aceto l'aceto è un prodotto finale della fermentazione infatti i batteri finiranno il processo della fermentazione e rimane aceto è qui che si ferma la fermentazione questo significa che i nostri corpi non processano l'aceto molto bene non abbiamo un enzima che scomponga l'aceto nel tratto digestivo quindi questo va nel flusso sanguigno ed è un acidificante l'acido citrico è quello che troviamo nella natura non trovate l'aceto in modo naturale a meno che qualcosa non sia fermentato quindi l'acidità naturale nell'agrume è per esempio l'acido citrico il succo di limone è altamente acido ma è un composto che potete digerire facilmente quindi se potete scegliere scegliete la marca che ha acido citrico e non quella che contiene aceto o acido acetico e se non hanno quel ketchup telefonate alla società e dite scusatemi perché mettete questo e quello nel vostro prodotto quando questo e quello sono meglio e se lo fate abbastanza a lungo alla fine ci sarà una marca che ha acido citrico e allora cercatela scegliete i migliori prodotti ed assicuratevi che siano sugli scaffali e cominciate a mettere pressione alla gente dicendo che il consumatore è più importante del fornitore e vostra la salute vostra la scelta grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti